Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Il Grande Fratello questa sera, 11 marzo, tornerà con una nuova puntata che svelerà chi sarà il secondo finalista. Al televoto sono finite quattro persone, Anita Olivieri, Letizia Petris, Paolo Masella e Wozzy Chien. Il più votato sarà il secondo finalista dopo Beatrice Luzzi. Nella puntata di stasera sicuramente si darà spazio ancora una volta ai presenti in studio. I concorrenti già eliminati o usciti volontariamente dalla casa, commenteranno gli ultimi accadimenti intercorsi tra gli inquilini ancora in gioco. Dal bacio tra Anita e Alessio ai risvolti emotivi con Edoardo, l'ex di lei. Ospite a sorpresa per gli inquilini del GF. Forse per tirare su loro il morale, la produzione ha organizzato la visita di Dado. Risate e spensieratezza, nell'attesa di sapere il nome di chi andrà di diritto in finale. Se tutto va secondo il calendario, manca meno di un mese alla fine di questa attravagliata edizione del reality. È successo sabato 9 marzo. Prima la cena preparata da Chef Rosie e Sergio. Spaghetti con gamberi, cozze e limone. Anfuis ed ecco palesarsi Dado, cantante, comico, cabarettista. E il party del sabato sera trova anche la sua colonna sonora. Non tutti lo riconoscono. Simona, come ti chiami? Mi ricordo di te, ma non mi ricordo il tuo nome. Dado non si scompone. Sono un comico. Sono venuto qua come regalo, ma non mi sento un regalo. Divisa tra i concorrenti la torta con cui si è presentato. Inizia da bravo cabarettista a intonare una canzone ispirata al GF, suonando la sua chitarra. Prima di salutare, lancia la sfida. Tocca ai concorrenti creare il loro stornello. Partendo da, può darsi che io non sappia cosa dico, da quando ho visto in casa Federico.